Salve e benvenuti in questo nuovo video dove vedrete il mio fantastico cielo stellato Questo video sarà un po' diverso rispetto agli altri Volevo portarvi con me nel mio mondo stellato Nel mio mondo pieno di stelle E raccontarvi un po' di me Io ho creato questo cielo stellato un paio di anni fa Per cercare di dormire meglio Infatti l'ho dipinto tutto io di viola E poi ci ho toccato Su queste stelline Che vedete Che di notte Diventano anche volorescenti Questo video sarà incentrato sulle stelle Vorrei che fosse un video Incentrato sui desideri Sui sogni Sul vostro Desiderio di Volere nuovi sogni Nuovi desiderio Per il futuro Vi chiedo scusa se sottofondo sentite Qualche rumore Ma purtroppo c'è Il mio ventilatore acceso Cercherò di farvi rilassare Di farvi sognare In più o meno 5 minuti Come dicevo Queste stelle Le attaccate tutte io Su questo soffitto E sono davvero bellissime Bellissime Ce ne sono davvero tantissime Quattro Tre Quattro Cinco Sei Sette Quattro Nove Dieci Vendici Dodici Tredici Vendici Sedici Dessette 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 Quante altre Quante altre Quante altre Grandissime altre Vore che pensaste A qualche vostro desiderio E io Tramite le stelle Cercherò di farle Rilassare Qualsiasi vostro desiderio un desiderio di un sogno irrealizzato, un desiderio di un nuovo amore, un desiderio di un futuro più bello, più luminoso, di fare nuove amicizie, di magari un viaggio molto particolare, di un nuovo lavoro, magari anche solo di cercare la tranquillità, o la felicità, ovviamente voi chiudete gli occhi, cercate di visualizzare il vostro desiderio, cercate di pensarlo, di visualizzare nella vostra mente, e io cercherò di farlo realizzare, contate con me la rovescia da 10 a 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, ora il vostro desiderio si salutirà, e vi auguro una buona notte, un buon relax, spero che il vostro desiderio si realizzate presto.